A pochi giorni da Ferragosto Giulia Nova è praticamente sold out, soddisfazione anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale per il lavoro svolto negli anni? Decisamente sì, è una stagione che era partita in maniera un po' titubante a causa ovviamente delle problematiche legate al Covid. Poi è esplosa, noi ce lo aspettavamo, c'eravamo organizzati, abbiamo messo su un'importante campagna di marketing e una serie di servizi che sono tuttora apprezzatissimi dagli ospiti. L'obiettivo era quello di valorizzare la città, far scoprire ai turisti le bellezze che ovviamente noi vogliamo vengono apprezzate nel migliore dei modi e poi promosse al di fuori della nostra regione. Hotel e chalet, tutto sold out? Sì, sì, decisamente sì, è un turismo nazionale, gli italiani sono rimasti in Italia e hanno apprezzato e hanno potuto tra l'altro vedere perché abbiamo dato visibilità al nostro territorio e alla nostra regione. Quanto riguarda il Green Pass, come siete attrezzati anche con più controlli in città? Sicuramente abbiamo intensificato i controlli, cerchiamo di attuare sempre nel migliore dei modi quelle che sono le normative. E' un appello ulteriore che ciò avvenga proprio per contenere i contagi e non influenzare questa stagione che per il momento sta andando veramente bene. Il 2021 è l'anno della ripartenza e noi l'abbiamo organizzata proprio nel migliore dei modi. Ce lo aspettavamo e oggi vediamo concretizzato un lavoro di programmazione importante che valorizza il nostro territorio e la nostra città che ambisce a diventare una meta turistica importante a livello nazionale.